In tutto questo periodo della mia vita non ho mai notato che ci sia stata una diminuzione di prezzi di vendita. Forse, devo dire, in questi ultimi anni c'è stato un ridimensionamento, una certa concorrenza e quindi ha portato a una diminuzione di alcuni prezzi, ma su alcune cose non ce ne sono state. Due esempi, uno la benzina, questa è la cosa che in questi giorni vi dico la verità, mi fa male. Allora, come aumenta il prezzo del barile della benzina? In automatico aumenta il prezzo della benzina. Adesso è diminuito il prezzo del petrolio, si dice così, del barile, ma non è diminuito di poco, è diminuito in maniera sostanziale, pesante, da 70, mi pare 70-80 euro al barile, siamo passati a 25. Avete notato delle grosse diminuzioni sul prezzo della benzina? Io? No, qualche sì, ma cose in Trentino, se diria, permettete la fordetta, petti per la tosse. Quindi cose veramente da niente. Chi mi ascolta dire? Ah, senti chi parla? Il farmacista, che questo basta che sia a causa che aumenta i prezzi. Eh, su questo avrei parecchio da dire, perché se guardate oggi sui prodotti equivalenti, prodotti generici, che a me non piace questa parola perché mi fa venire il vomito, e li chiamo equivalenti, cioè prodotti che equivalgono al prodotto brevettato. Beh, prodotti che costavano 15 euro ne costano due, quindi non è che c'è sempre stata. I prodotti equivalenti hanno dato la dimostrazione che ci può essere una notevole diminuzione dei prezzi. Ma la cosa della benzina è una cosa che mi... Allora, le risposte, ci sono le accise, le accise sarebbe ancora che dovremmo pagare per l'Egitto, che dovremmo pagare per l'Abisinia, che dovremmo pagare per lì, perché dovremmo pagare per lì. Sì, però se il barile da 80 euro che fosse andato a 81 avrebbero aumentato immediatamente. Questo per conto mio non funziona per coloro che sono i commercianti, perché bisogna guardare anche alla psicologia della gente. La psicologia della gente è orientata su alcune cose. La benzina è una di quelle. Ma un'altra cosa che a me personalmente dà fastidio è l'aumento del caffè. Vado in giro, il caffè 1,10, 1,20. Però se bevo lo Spritz è ancora 3,50. Io dico la verità, se mi facessero pagare lo Spritz 4 euro, ma avessero lasciato il caffè a 1 euro, io non avrei detto niente. Vi dirò di più, vi dirò di più, che io sarei un sostenitore del caffè al banco a 80 centesimi. Ma se io mi siedo fuori e mi faccio portare il caffè dal cameriere, il caffè deve essere messo su un plateau, sul plateau magari bisogna prendere una persona per portarlo là, c'è un certo servizio, un certo costo tra la vendita di un caffè al banco o un caffè che io vado a occupare. Prima perché occupo un tavolino che magari potrebbe occupare un altro prendendo più cose di me, anziché il caffè prendere qualcosa di più. E quindi giustificherei di più un caffè seduto a 1,50 euro o anche a 2 euro, arrivo a dire, perché mi giustifica un servizio. E avrei capito di più una diminuzione del caffè al banco. Invece cosa è successo? Che è un caffè, allora mi tirano fuori tutta la storia che il caffè è aumentato, siccome io peso il caffè per quelli che lo vendono so che cosa è il costo. Indubbiamente c'è un argomento, le tasse che noi paghiamo è questa, la solita storia che è sacrosanta. Ma psicologicamente parlando è un errore perché il pubblico dice, oh, il caffè adesso lo aumenta del centesimo. Anche perché se hai due euro e ti dà tutto il resto, tua monetina, l'euro, il caffè, era che simpatico, pagavi in euro e via. Io se fossi stato dalla parte dei baristi non avrei aumentato il caffè. dirà, cosa capisce questo qui del caffè che ha sempre venduto medicine fino all'altro giorno? Sì, è vero, ha venduto medicine fino all'altro giorno, ma siccome sono anche un consumatore di bar, certe cose mi sanno un po', mi consente al termine, dei piocciosi.